I primi tagli ragazzi, si ricomincia, dopo il letargo invernale l'orsetto torna all'opera, ci ritroviamo qua nella solita Bergamo, più incazzata che mai, viscida ma i bergamaschi per loro è abitudine, ma per noi che arriviamo da Milan è una fatica immonda, ma che giro che faccia lo sto taglietto, forza dai, ma che tornate, si dovranno più scaldare no, è il primo taglio, Cristo, dai, Davidino e John, sono veramente fuori allenamento, non parlo di loro, parlo del sottoscritto, mi sento una chiavica, mi sento goffo, Marco è qua dietro di me, pronto a spingere, ecco Davidino, forza, aspetta Dario, senti vuoi che te la porto su io, che facciamo prima, vecchio progetto, quando lo enduro si fa duro, un solo sito, dai, no bravo Davide, bravo eh, complimenti, e lui ride, ride, io questo non lo metto su youtube, mi vergogno, guardalo, guardalo, eppure uno gnomo dovrebbe trovarsi bene qua in zona, è impressionante, si scivola da morire, spostati Davide perché dai fastidio lì, vediamo l'attacco, la prova di Marco, lo stile stile ragazzi, vai Maxino vai, vai, minchia ragazzi, che legnata di fango mi è arrivata in faccia, però è arrivato su, mi ha ammazzato col fango, guarda la mia faccia, guarda, guarda la mia faccia, aspetta, aspetta, John, John aspetta, 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 se no spingi, ora è il turno di John, l'amico Jonathan, allora vi spostato o no? John, è tutta tua, gas costante, senza esagerare, la Yamachina del nostro Gigi Rampoldi, la presa John, non mollare, non mollare! niente no, buono, vai giù, vai giù niente, qui non ce l'ha fatto ragazzi, Bergamo non si smentisce, siamo al 31 gennaio, è sabato mattina, aspettiamo John e Davidino, ma come vedete questo sentiero dove passano le auto hanno schiacciato completamente la neve, ed è un lastrone unico di ghiaccio, la mia Yamachina ovviamente è trazione invidiabile, non è una Yamaha, è un gatto delle nevi, meravigliosa, la moto di Marco, vabbè, il bastardo monta anche i chiodi eh, da precisare eh Marco, quando ascolterai questo video, sei un bastardo, andiamo a vedere quei due a che punto sono, eccoli dove erano, hanno spinto nei primi 5 metri, non sanno sopra cosa gli aspetta, Davide, sopra, sopra arrivi con il gas costante, con un po' di abbrivi, è tutto ghiaccio ma piano, non dare sgassate inutili su eh, parti in prima se non ce la fai, su dai gas costante eh, mettevi la marcia col freno? vai Davidino, tocca a John va giù, va giù, va giù, va giù, va giù, va giù, vanno giù tutte e due, vanno giù tutte due, 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 due salami sembravate, vi potevo legare, cazzarola, dai vabbò, è molto importante, vi ho Зд donne va giù, va giù, va giù, va giù, va giù, va giù, va giù del programma, da ricette, ci sia magnifica, la ris мы vielleicht, va giù, va giù la risposta, b Score systemumbre, che si terminate a vedere 05 metri cyclis utile, sopra vediamo alle stradzetti eller i più, va giù, va giù da G circa 2x3